Salve a tutti. In questo momento mi veniva da pensare che Dio sicuramente ha molte cose da insegnare, da far conoscere. Nei Vangeli viene detto che Gesù era il maestro, lo chiamavano maestro. Ed era un vero maestro che insegnava delle cose che, oserei dire, che nessun altro poteva insegnare. Ebbene, Dio sicuramente ha delle cose da insegnare. Sicuramente. Sicuramente. La scrittura dice che è lo stolto quello che ha detto che Dio non c'è. Se è lo stolto che ha detto che Dio non c'è, uno può riflettere e dire, allora, nel dire che Dio c'è, nell'avere a che fare con Dio, questa è la sapienza. Conoscere Dio, oserei dire, che è vera, sapienza. Conoscere la persona di Dio è vera, sapienza. Quando Gesù era qui sulla terra, Dio ci fa sapere che degli uomini lo hanno realmente conosciuto. Sono stati con Lui, lo hanno conosciuto, lo sentivano parlare. Allora, Dio fa vedere che degli uomini qui sulla terra hanno conosciuto il figlio di Dio, cioè Gesù. Hanno avuto a che fare con la persona di Gesù. credo che questa è una conoscenza eccezionale. Ed è una conoscenza che è buonissimo avere, molto buono avere. se Dio ci fa vedere che degli uomini hanno conosciuto Gesù, sono stati in sua compagnia, quegli uomini fecero veramente molto bene. Quegli uomini erano i discepoli di Gesù, tra cui Pietro, Giacomo, Giovanni. e Dio ci fa vedere che si era stolti a non essere con Gesù in quel tempo. Vi era la possibilità di poter conoscere Gesù, di poterlo sentire, parlare, di poter essere in sua compagnia. C'era questa possibilità. Ma chi sfruttò questa grandissima possibilità di essere proprio con Gesù? Dio ci fa vedere che degli uomini accettarono proprio questo, questa preziosa attività. Potevano fare altro. però Dio ci fa vedere che si incontrarono con Gesù. Quanto vale l'incontrarsi con il proprio Dio? Quanto vale? Che valore ha il fatto di incontrarsi proprio con Dio? Penso che anche davanti a Dio ha una grandissima importanza il fatto di conoscerlo. ha una grandissima importanza conoscerlo. Nel Vangelo di Giovanni è anche detto è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. credo che Dio vuole proprio che noi lo conosciamo. Come Dio mi ha dato di riflettere anche altre volte nella Bibbia si vede che Eno camminò con Dio. Penso che Dio vuole che anche noi abbiamo questo contatto proprio con Lui che ci troviamo proprio con Lui proprio con Lui quel passo che dice che lo stolto è quello che ha detto che Dio non c'è credo che sia di grandissimo insegnamento perché fa capire che c'è una forte riprensione verso quelli che dicono che Dio che non c'è. la scrittura fa vedere che degli uomini hanno conosciuto Dio l'hanno incontrato hanno dito le sue parole hanno veramente conosciuto Dio Allora quel passo che dice che è lo stolto quello che ha detto che Dio non c'è quel passo deve far riflettere proprio far comprendere che si è chiamati ad avere a che fare con Dio a conoscerlo a conoscere la sua persona volevo anche leggere la storia che Gesù raccontò in riguardo alle dieci vergini la parabola delle dieci vergini allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo cinque di loro erano stolte e cinque avvedute le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi siccome lo sposo tardava tutte divennero assonnate e si addormentarono verso mezzanotte si levò un grido ecco lo sposo uscite gli incontro allora tutte quelle vergine si svegliarono e prepararono le loro lampade e le stolte dissero alle avvedute dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono ma le avvedute risposero no perché non basterebbe per noi e per voi andate piuttosto dai venditori e compratevene ma mentre quelli andavano a comprare arrivò lo sposo e quelli che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa più tardi vennero anche le altre vergine dicendo signore signore aprici ma egli rispose io vi dico in verità non vi conosco ho letto questo passo proprio perché per questa parola detta da Gesù quando gli dice io in verità non vi conosco e c'è anche un altro passo un altro passo che si trova nel seconda terzo dicesi capitolo 1 versetto 7 viene detto quando il signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio il punto è proprio questo qui perché se è detto che lo stolto ha detto che Dio non c'è la rovina sta proprio qui la rovina sta proprio nel non conoscere il proprio Dio il proprio creatore la rovina abita c'è già laddove ci sono delle persone che non conoscono Dio anche se non sembra la rovina c'è già anche se non si vede ma c'è già per quelle persone che non conoscono Dio mi viene in mente anche la storia del ricco stolto che disse anima mia tu hai molti beni mangia bevi e godi e Dio gli parlò e gli disse stolto leggo anche questo passo che si trova nel Vangelo di Luca versetto si può leggere da 16 e disse loro questa parabola la campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente ed egli ragionava così fra sé medesimo che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti e disse questo farò demolirò i miei granai e ne fabblicherò dei più vasti e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia anima tu hai molti beni riposti per molti anni riposati mangia bevi godi ma Dio gli disse stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quel che hai preparato di chi sarà quello che mi colpiva è che Dio parla a quest'uomo l'ultimo giorno della sua vita e lo chiama stolto è Dio che parla l'ultimo giorno della vita di quest'uomo e Dio lo chiama stolto se uno ci riflette anche sul passo che viene detto nel Vecchio Testamento che è lo stolto quello che ha detto che Dio non c'è allora questo ricco stolto per tutta la sua vita lui diceva che Dio non c'era diceva che Dio non c'era e chiaramente dicendo che non c'era non gli interessava conoscere Dio quante persone ci sono in questo tempo che dicono che Dio non c'è quante persone ci sono ora che dicono che Dio non c'è e che non gli interessa conoscere Dio qui Dio fa sapere per mezzo di Gesù che dirà delle parole parlerà aprirà la bocca e parlerà a quella persona che per tutta una vita ha detto che Dio non c'è e Dio gli parlerà l'ultimo giorno della sua vita qui è Gesù che ha fatto sapere questo fatto è Gesù che ha raccontato ciò ma Dio gli disse stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata ed è chiaro che se Dio parla quello che dice accade e se Dio gli ha detto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata quella persona lì quella persona lì quella notte stessa l'anima sua gli è stata realmente ridomandata però a me piace riflettere sul fatto che è vero ci sono delle persone che dicono che Dio non c'è e queste persone da Dio da parte di Dio vengono chiamate stolte questo però fa capire che Dio è presente ed è vivente e lui vuole che noi diciamo che lui c'è ma non vuole soltanto che noi diciamo che lui c'è ma vuole che noi siamo ben disposti a conoscerlo ho letto dei passi dove fanno capire che è una vera rovina non conoscere Dio ho letto dei passi dove Dio stesso ci fa conoscere che è una vera rovina il fatto di non conoscere Dio rileggo il passo che si trova in tesoro incisi quando il signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante qui viene detto quando Gesù apparirà dal cielo mi sembra già di sentire molte persone nella loro stoltezza che dicono che ciò non avverrà che Gesù non apparirà dal cielo gli stolti probabilmente parlano così credono che Gesù non apparirà mai ma qui l'Apostolo Paolo dice che apparirà quando il signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio direi che questo passo è molto forte perché si capisce che Gesù userà la sua potenza contro quelli che non conoscono Dio se uno comprende le parole che vengono qui dette sono così c'è poco da interpretare quando il signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio credo che pochi conoscono chi è veramente Gesù e questo aspetto anche di Gesù che Gesù apparirà dal cielo e userà la sua potenza contro quelli che non conoscono Dio allora si capisce che per Dio ha molta importanza il fatto di conoscerlo per Dio ha molta importanza il fatto di conoscerlo il resto a Dio non gli interessa a Dio non interessa che uno sia religioso che conosca come dire le religioni o la religione o le regole delle religioni a Dio interessa che uno lo conosca Gesù avrà gli occhi per vedere con chiarezza chi conosce Dio qui dice che la sua vendetta sarà contro coloro che non conoscono il Dio penso che si conoscono molte cose di Gesù ma questa cosa qui non la si conosce forse perché non piace però io vedo che è una cosa preziosa perché è un qualcosa che ci insegna che ci dice che è buono conoscere Dio è buono conoscere Dio Dio è veramente benigno lo è per davvero ma è anche giustamente severo giustamente severo è giusto e se qui Gesù userà la sua potenza contro quelli che non conoscono Dio ciò è giusto la scrittura dice è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto lo stolto ha detto che Dio non c'è in tutta la Bibbia si comprende che è buono proprio avere a che fare direttamente con Dio avere come insegnanti come insegnante Dio l'apostolo Pietro ebbe dell'insegnamento direttamente da Dio perché Gesù gli disse non carne e sangue ti hanno rivelato questo ma il Padre mio allora se è lo stolto che ha detto che Dio non c'è è lo stolto quello che non ha che fare con Dio non conosce Dio e avrà la conseguenza della sua stoltezza ho citato anche le dieci vergini di cui c'erano le cinque vergini stolte cinque savie e le stolte all'ultimo vennero anche le altre vergini cioè le stolte dicendo signore signore aprici già qui il fatto che loro ripetano due volte signore signore sembra quasi che siano delle persone molto religiose molto religiose ma Gesù gli dice una cosa però ma egli rispondendo disse io vi dico in verità non vi conosco allora quelle cinque vergine stolte che sono andate ad attendere lo sposo che in pratica è Gesù non lo avevano conosciuto erano chiamate a conoscere Gesù la chiamata era che avrebbero dovuto conoscerlo se le altre erano savie è chiaro che avevano conosciuto Gesù chi non conosce Dio viene chiamato da Dio stolto è è stato Dio a dare questo nome a chiamare ricco stolto stolto Dio gli ha parlato l'ultimo giorno della sua vita qui sulla terra e lo ha chiamato stolto c'è un passo della scrittura che dice che è impossibile befarsi di Dio è impossibile befarsi di Dio quante persone ci sono in questo tempo che dicono che Dio non c'è Dio ci fa sapere che lui chiama queste persone stolte ma mi viene da pensare anche un'altra cosa che le persone che udranno queste parole e che si riconoscono stolte cioè che fino a questo momento hanno detto che Dio non c'è ascoltando queste parole potranno dire ho sbagliato sono stolto io perché ho detto che Dio non c'è ho detto che Dio non esiste e credo che Dio fa caso alle persone che che si pentono che si ravvedono per davvero e che lo cercano Dio vuole proprio che noi andiamo nella direzione sua e colui che fino adesso ha detto che Dio non c'è se si avvia verso la direzione di Dio Dio gli andrà incontro perché Giacomo disse avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi e così che si smetterà di essere stolti mi viene in mente in questo momento l'apostolo Paolo che era una persona molto religiosa molto religiosa ma che non aveva conosciuto Dio però a un certo momento quando Gesù gli andò a parlare lui riconobbe di aver sbagliato tutto lo riconobbe riconobbe di aver sbagliato tutto e chi legge la storia dell'apostolo Paolo comprenderà capirà capirà allora Dio fa conoscere delle cose le fa veramente conoscere Dio fa conoscere che bisogna conoscere lui bisogna proprio conoscere lui perché Dio ci fa vedere che che parlò all'apostolo Pietro e gli disse chi era Gesù perché Gesù gli disse non carne e sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio allora Dio non vuole forse avere a che fare proprio con noi Dio Dio vuole che noi diciamo che Dio non c'è che Dio non è vivente Dio vuole proprio che noi abbiamo a che fare con lui Dio vuole proprio questo altrimenti se uno dice che Dio non c'è è storto rilego ancora la storia delle dieci vergini la parte delle altre delle stolte quando arrivano arrivano all'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo signore signore aprici ma egli rispondendo disse io vi dico in verità non vi conosco allora se Gesù dice queste cose se Gesù ci fa vedere che queste persone saranno respinte perché gli sarà detto non vi conosco si capisce questa cosa che Dio respingerà quelli che non hanno conosciuto Dio respingerà quelli che lo hanno rifiutato il ricco stolto Dio lo chiama stolto l'ultimo giorno della sua vita aveva respinto Dio per tutta la sua vita fino a quel momento e l'ultimo giorno della vita Dio non ha delle parole come dire amorevoli verso di lui Dio ha delle giuste parole verso di lui e lo chiama stolto in questo momento mi viene da riflettere da dire ma Dio a noi come ci chiama Dio che pensieri ha verso di me bisogna porsi questa domanda ma Dio che pensieri ha verso di me bisogna credo guardare a lui c'è un passo che dice quelli che riguardano lui sono illuminati e le loro facce non sono svergognate vogliamo noi essere chiamati da Dio in maniera onorevole piacevole come vogliamo essere chiamati da Dio allora se è Dio che ci fa sapere che Gesù verrà e verrà con la sua potenza e sarà contro quelli che non conoscono Dio Gesù in quel giorno vede i suoi occhi osservano tutti gli uomini osservano se uno ha conosciuto Dio oppure no a Gesù interesserà ciò quando il Signor Gesù apparirà dal cielo quando il Signor Gesù apparirà dal cielo sarà visto allora Gesù in quel momento tutti quanti lo vedranno in quel giorno ogni occhio lo vedrà e lo vedranno anche quelli che lo trafissero quando Gesù apparirà sarà visto si vedrà ma quel Gesù che apparirà qui ci viene fatto conoscere ci viene fatto sapere che userà la sua potenza per la sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio quando Gesù venne circa duemila anni fa venne e fece tanto del bene ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo guarì fu il salvatore del mondo ma quando Gesù tornerà qui ci viene fatto vedere che lui verrà con la sua potenza per far vendetta di quelli che non conoscono Dio per Gesù è importante allora che una persona conosca Dio per Dio è importante che uno lo conosca che conosca proprio proprio lui per Dio è veramente importante che lo si conosca io cito molto spesso questo passo che è scritto in Genesi che viene fatto vedere che Enoch camminò con Dio allora Enoch conosceva Dio conosceva veramente Dio e Gesù quando era qui sulla terra fa vedere che i sacerdoti di quel tempo non conoscevano Dio perché Gesù gli disse voi il suo sembiante cioè il volto di Dio non l'avete mai visto allora erano religiosi e non conoscevano Dio per per Dio è veramente importante conoscere Lui e Gesù quando verrà userà la sua potenza contro quelli che non conoscono Dio queste cose è Dio stesso che ce le fa sapere e sono scritte quando il Signore Gesù apparirà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante mi chiedo chi potrà resistere a quel fuoco al fuoco che verrà con Gesù chi potrà resistere a quel fuoco ed è il fuoco mandato da Dio in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio queste parole fanno riflettere e fanno pensare quanto è importante conoscere Dio quanto è veramente importante e quanto è anche glorioso poter conoscere Dio è glorioso poter conoscere Dio la scrittura fa vedere queste cose parla di queste cose quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli anci della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù i quali saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore qui è Dio che ci fa sapere che ci saranno delle persone che lui respingerà è Dio che ci fa sapere che ci sono delle persone che a lui non gli saranno gradite come ricostolto che l'ultimo giorno della sua vita è Dio che lo chiama stolto e se Dio usa queste parole lui l'ultimo giorno della sua vita ha poco da sperare ha poco da essere in pace perché Dio che lo chiama stolto è Dio che gli parla in una maniera non amichevole e quando Gesù tornerà verrà ci saranno delle azioni non amichevoli da parte di Dio giustamente perché viene detto i quali saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto allora quanto è importante conoscere Dio quanto è importante e quanto si è stolti a non conoscerlo sì Dio fa vedere queste cose ci fa sapere queste cose quanto è importante conoscere Dio ora mi volevo accingere verso la chiusura e direi che effettivamente è buono badare proprio alle cose che Dio ha fatto sapere non alle cose inventate dagli uomini ma le cose che Lui ha fatto sapere vorrei dire anche un'altra piccola cosa che Gesù ha riportato le parole di Dio ma Dio gli disse stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata è Gesù che fa conoscere le parole di Dio questa parola di Dio che Dio disse ma Dio gli disse stolto ma Dio gli disse stolto è Gesù che ci ha fatto sapere che dalla bocca di Dio è uscita questa parola e l'ha detta verso un uomo che era realmente stolto questo fa pensare che Dio può difendere la sua la sua parola Dio difende la sua parola ed è Dio ne ha la potenza di poter difendere la sua parola è vero Dio stesso ci fa conoscere ci fa sapere che ci sono persone che hanno voglia di modificare le parole di Dio ma pur nonostante Dio è in grado di far conoscere la verità è in grado di far giungere alle nostre orecchie ciò che lui ha detto quello che è il suo pensiero e lui non gradisce non gradisce che l'uomo si tenga lontano da lui non lo gradisce non gradisce che l'uomo sia stolto non lo gradisce ed è chiaro che se uno cerca Dio trova la vita ha trovato la vita se uno rifiuta Dio ha rifiutato la vita e si è riempito di guai allora la scrittura dice che ero stolto quello che ha detto che Dio non c'è ed è ovvio ed è chiaro che quelli che accettano di conoscere Dio si incamminano nella via opposta della stoltezza e Dio fa vedere che tutti quelli che hanno accettato di ascoltarlo hanno fatto molto bene e concludo con un passo che dice hanno rigettato la mia parola che sapienza possono essi avere se uno rigetta la parola di Dio si è incamminato nella via della rovina il passo si trova in Geremia capitolo 8 versetto 9 i saavi saranno confusi saranno costernati saranno presi ecco hanno rigettato la parola dell'Eterno che sapienza possono essi avere allora Dio ci fa sapere che è un grande bene conoscere Lui è un grande grande bene conoscere Lui ed è una grande follia non conoscerlo in Cristo Gesù Amen Prendi la mia vita Prendi la signor e la tua fiamma bruci nel mio uomo tutto l'esser mio vivri per te sì mio Signore è divino Re conoscere 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 Grazie a tutti.